Un saluto a tutti quanti lettori di Topperl.it Niente, io sto qui alla presentazione del libro, e non del libro, scusate, del film. No, il fatto è che sono un po' stanco, quindi sembro una persona di spartisco il neurone con Plutone, sto dicendo un sacco di stocchezze, però se mi va, dal 16 marzo, al cinema c'è 10 regole per fare innamorare, che è un film nel quale sono protagonista, che è una scelta sbagliata, sempre una scelta sbagliata, però, se vi va, è un film per ragazzi, un film carino, tenero, dolce, ho pure messo la fetta con le ali per l'occasione, e quindi sì, un saluto a tutti quanti.